Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Il senatore abruzzese Antonio Razzi, croce degli italianisti e delizia di Maurizio Crozza, ha vissuto una bruttissima sorpresa di Pasqua. Invitato dal regime della Corea del Nord per la festa del sole, infatti, è rimasto bloccato a Pyongyang perché la compagnia aerea di bandiera Air Corio ha posticipato il volo diretto a Pechino previsto per ieri mattina. Una coincidenza decisamente di spessore storico che tiene l'umanità con il fiato sospeso. Tra le sfilate minacciose dei missili del dittatore Kim e i razzi abruzzesi fermi in aeroporto, il mondo ha di che tremare. Grazie a tutti.